Vorresti un prodotto per prepararti all'attività fisica? E ne vorresti anche uno che aiuti ad allieviare le tensioni? Magari con estratti 100% naturali. Quale desiderio posso esaudire? Tutti e te! Fisiocrem ti supporta nell'attività fisica grazie alla sua formula naturale, prima e dopo lo sport per una sensazione di sollievo immediato. Gioca d'anticipo, preparati con Fisiocrem. Come sono andato con le punizioni? Eh, per quelle ci vorrebbe un miracolo. Grazie!